inizia ora cantera adriatica pescara l'aquila chiude il triangolo può correre la numero 32 spallata la vince lei tonto donati può entrare in area di rigore pallone buono ancora per la cantera che non riesce a destreggersi e poi la conclusione fuori di poco sul fondo primo vero squillo della cantera adriatica limite dell'area di rigore masciulli masciulli può mettere in luce il destro masciulli conclude pallone di un soffio al lato che cerca sulla corsia di sinistra con ruggeri ruggeri riceve pensa la conclusione di destro la effettua ruggeri conclusione al bacio che si spegne dando forse anche un piccolo bacetto al montante alto e dunque la cantera adriatica pescara mette la freccia del sorpasso per essere buono per la numero 32 limite dell'area tonto donati converge conclude pallone che sfiora la traversa senza troppe pressioni ma attenzione perché c'è questo pallone per calvano calvano posizione regolare intervento magistrale di sanniti cantera adriatica con pallone di rigore conclusione ancora sanniti fondamentale il suo intervento la parte opposta di paolo entra in area di rigore di paolo finita la conclusione di paolo miracolo di nardulli personale molto probabilmente arrivata lì un po stanca però attenzione però perché c'è questo tentativo e non si capisce se il se il pallone abbia marcato la riga bianca tant'è che il direttore di gara ma la direzione di tonto donati favorisce il rimpallo in area di rigore e c'è il gol del pareggio ha segnato fiore che dal centro dell'area di rigore non ha perdonato non ci può arrivare nardulli cantera adriatica pescara 1 l'aquila 1 lì ma sciulli dell'area ma sciulli conclude risposte importante ma attenzione pallone che finisce sul fondo care attenzione perché c'è un piccolo varco pallone per di paro di paolo pallone che rimane lì bravissima nardulli anticipare vita ma sciulli pallone al bacio per di fascio di fascio aria di rigore spettacolare la risposta di sanniti triplice fischio finisce qui cantera adriatica pescara e l'aquila non si fanno male pareggiano per 1 a 1 pareggio che va stretto ad ambe due la cantera rimane al primo pozzo si abbracciano tutte scene di sport che ci piace vedere